e ciao a tutti ragazzi qui Alec e oggi siamo qui per un nuovo episodio del mondo di Alec ma Alec oggi è sabato esatto esatto è sabato e c'è un episodio del mondo di Alec che dovrebbe essere solo lunedì e giovedì ma siccome nell'ultimo episodio ho chiesto 800 like in 24 ore e prima delle 24 ore ne abbiamo addirittura sopra di 1000 ho deciso che se da adesso in poi gli episodi della vanilla supereranno i 1000 like il sabato ci sarà un terzo episodio della vanilla e quindi porteremo 3 episodi a settimana della vanilla il lunedì, il giovedì e il sabato però dobbiamo superare i 1000 like 1000 like possiamo tranquillamente perché ormai siamo tanti a seguirla fa 5000 like nell'arco di 24 ore ah, 5000 like, 5000, 6000, 5000, 6000 views nell'arco di 24 ore quindi possiamo tranquillamente raggiungere 1000 like io conto su di voi se volete più vanilla fatelo e soprattutto commentate per finire nella casa gli iscritti che adesso andremo a vedere il fortunato dello scorso episodio i minigames sapete che a me non piacciono a me piace la vanilla, mi piacciono le CTM, le mod i minigames non piacciono quindi se il sabato invece dei minigames portiamo le vanille la vanilla per me è anche meglio al massimo la domenica ogni tanto i minigames quando mi va altrimenti non esce un cazzo la domenica è il giorno di pausa per me detto questo qui qual è il fortunato dello scorso episodio? Lucrezia Aiello con un commento che è stato il più votato da voi che mi invita alla costruzione di una casa per gli ospiti l'avete votato l'avete messo like in molti e quindi ho deciso di selezionarlo però questo non vuol dire che seleziono sempre quello con più like voi commentate perché io li leggo tutti i commenti e magari qualcosa posso comunque farla anche senza mettere nella casa gli iscritti quindi voi non mettete mai di commentare e proporre idee detto questo oggi cosa andremo a fare? la farm di coniglia è stata votata da voi nello scorso episodio nel prossimo dovrò comunque andare a cacciare i diamanti e a esplorare la mineshaft che abbiamo trovato nella palude e che sta ancora lì pronta per essere esplorata perché io ho ancora l'armatura dei poveri ho messo mending sul off camera la sono andata a comprare il villaggio di villaggia l'ho messo sul piccone l'ho messo sulla spada l'ho messo anche su questa corazza di diamante che sarà quella poi che terremo anche se in realtà la produzione al fuoco 2 serve a poco però volevo portarla a livello alto così da avere una produzione al fuoco vorrei fare un'armatura mista e non tutta basata sulla protection perché alla fine serve un po' tutto e detto questo non ho cibo perché l'ho finito per l'esima volta devo andare a prendere stack dalla mia farm ho diverse cose da farvi vedere come ho detto nel settantesimo episodio cioè non in questo non nel prossimo ma nel prossimo ancora ci sarà il tour del mondo e farò vedere tutto il mondo molti mi hanno detto fatelo con l'elita io l'elita non ce l'ho l'ho persa molti di voi lo sapranno con l'wither contro l'wither devo andarla ancora a riprendere non lo riprenderò nei prossimi episodi perché non ho neanche l'equipaggiamento per andarla a prendere ho una spada pure abbastanza scarsa non ho niente e quindi la priorità sono i diamanti quindi nel prossimo episodio andremo comunque di esplorazione e mentre in questi sto finendo le cose che mi mancano la farm di conigli era una cosa di queste volevo finire anche la farm di legno adesso vediamo se avanza il tempo in questo episodio comunque la casa di iscritti l'abbiamo fatto nel frattempo vi faccio vedere un po' di cose che ho fatto off camera ho lavorato abbastanza perché ho pensato che fosse carino fare la pixel art di una carota vicino al coniglio e farci una farm di carote ovviamente piccola vedete questa è una carota assomiglia abbastanza a una carota non si sa che questa l'ho fatta io senza guardare da nessuna parte ma assomiglia abbastanza a una carota e ovviamente la lana non è stata un problema né tantomeno l'arancione perché abbiamo la farm di colori che è lì dietro per chi non lo sapesse vedesse gli episodi precedenti è una 9 è una 9 blocchi quindi non tantissime carote però nel senso quelle che bastano per magari poi fare accoppiare i conigli che andremo a mettere nella farm di conigli cioè dentro questo bel coniglione qui ci sono le carote e qui ci andranno le zampe di coniglio e la carne questa farm ci serve soprattutto per le zampe di coniglio o per il laboratorio per chi se lo ricorda uno degli ingredienti per le pozioni altrimenti la carne abbiamo la farm di pollo non ci serve assolutamente non che nemmeno la pelle dato che abbiamo comunque la farm di mucche per la pelle e i libri quindi questa farm è prettamente per le zampe quindi non la farò automatica metterò solo un po' di conigli qui che riproduco con le carote e dopo un po' ammazzo eppure la farm di carote dato che non serve quasi a niente abbiamo quella di patata infinita che ci prendiamo gli smeraldi da all'armeria quindi è una cosa fatta così niente di automatico solo carino solo funzionale per quello che serve dato che non serve a molto e niente ditemi nei commenti se vi piace il carotone si sta per fare notte come al solito perché mi sono dilungato sempre troppo andiamo a prenderci uno stack di pollo che qui abbiamo anche la farm come vedete impallata dalla roba perfetto non facciamo il tempo a togliere uno stack che si riempa andiamo a dormire ok io direi anche di mangiare oh le modifiche alla stalla come vedete qui lateralmente ci ho messo un po' di balle di fieno messe un po' così anche lì dietro tanto per il problema che è il balle di fieno è che ogni volta che le piazzo poi ci si forma la terra sotto ma sti cazzi anche da questo lato ci ho messo una balla di fieno qui e qua ci ho messo il tizio delle selle vedete con i simboli delle selle se clicchiamo su di lui come vedete il tizio vende selle per otto smeraldi non è proprio economico ma insomma abbiamo diverse selle avevo già quattro selle di mio le ho trovate in giro le ho usate per i due cavalli che sono andato a prendere che ho già bardato con le mie due armature di diamante ma diamante sono belli e le ho chiamate cavallo 2 e cavallo 1 ciò vale che una fantasia nei nomi ma si dai cavallo 1 e cavallo 2 hanno abbastanza vita sono abbastanza veloci sono due buoni cavalli e li ho messi qui è un po' crowd la stalla ve l'appoggio è un po' affollata loro fanno un po' come cazzo gli pare ma va bene i calderoni li ho preso sotto vostro consiglio mi hai detto metti la paglia i calderoni ho letto un po' i commenti ragazzi e qui pure ho messo un po' di paglia un po' di calderoni e poi una box dove c'è un guinzaglio una sella avanzata e 5 bardature di ferro che avevo oltre a quelle due di diamante in teoria ne avevo anche una d'oro ma non l'ho più trovata non so che cazzo di fine abbia fatto ma mi ricordo che l'avevo trovata vabbè qui ci sono i miei cavalli questa è la stalla l'ho finita con tutti questi ritocchi e queste decorazioni laterali io credo sia venuta una buona stalla molti mi hanno detto che il design non gli piace no molti in realtà pochi però sinceramente non capisco il perché qui intanto volevo levare un po' di queste cose perché meglio così cioè secondo me è una buona stalla lo so non è che è una stalla molto convenzionale però ci sta ci sta proprio per questo non è male come design secondo me poi o ognuno ha i suoi gusti poi voglio dire è sempre una stalla non deve essere un'opera d'arte quindi off-cut avete visto lì la farm d'oro sì la farm d'oro ci sto lavorando da diversi giorni in realtà diversi episodi che sto mandando avanti ho messo appunto ripristino sul piccone perché l'avevo quasi esaurito sono dovuto andare un po' a farmare e i livelli l'ho usati anche per mettere ripristino sulla roba e diverse altre cose come vedete ho anche 20 livelli e niente qui in pratica l'ho fatta a quadrucola ragazzi esattamente voi eravate rimasti a due blocchi sono diventati quattro ho lavorato parecchio off-camera diciamo parecchio anche perché fortunatamente ho riempito bene i magazzini perché qua c'era anche una mezza montagnola da abbattere ho ricoperto parecchia cobblestone però il problema è che rende veramente poco anche così rende veramente poco anche così calcolate che con un'ora di fk qui non rende più di 30 pezzetti a destra e a sinistra una stack di cose quindi poca roba in realtà secondo me rende veramente poco anche a causa dei cactus ragazzi perché i cactus fanno perdere veramente tanti drop e dovrò fare un sistema di soffocamento il prima possibile addirittura mettermi a ucciderli ma essendo doppio poi è scomodo quindi preferirei un sistema di soffocamento comunque sicuramente così rende molto ma molto di più che un blocco singolo e non intendo ingrandirlo ulteriormente perché mi sono rotto il cazzo sia di fare ossidiana sia di stare là sopra a costruire ci ho messo veramente tanto tempo l'ho fatto giusto per il giro del mondo per avere una farm d'oro degna di nota anche perché so che ho fatto quella che rende di meno di tutte e quindi già che rende meno almeno devi farla più efficiente possibile in questo mondo qui è rimasto un letto da quando usavo qui il portale per farmare i portali ma l'ho tolto lì c'erano le due box con tutta la roba che avevamo rimediato alla farm di Wither di Skeleton Wither e le ho tolte e ho trasferito tutto nel magazzino questo episodio ovviamente non è il giro del mondo ma vi sto facendo vedere alcune novità tanto per tenervi aggiornati ho messo tutto qui come vedete ho recuperato abbastanza cobblestone ma soprattutto ho una meraviglia di sta roba ho anche diverso quarzo un po' di questo un po' di quello un po' di quello oro e ferro nima c'è la farm di ferro che è piena non vado a prelevare da un botto c'è la redstone abbiamo comunque tanto carbone insomma siamo messi bene con i materiali quindi non c'è da lamentarsi abbiamo le farm abbastanza efficienti e tutto lì potremmo prendere smeraldi infinito grazie alla farm di patate insomma per chi non avessi visto di recente il laboratorio non è che è cambiato molto stiamo aspettando ancora di fare tutti i vari ingredienti qui sono le pixel art delle pozioni qua dobbiamo ancora mettere tanti ingredienti a cui anche la zampa di coniglio che ci stiamo lavorando ora la farm di carote c'è quindi anche le carote d'oro possiamo aumentarle e niente questo poi sicuramente qua ho portato tutte le verghe di blades che ho rimediato e che non ho perso perché poi ricordo che ne ho perso anche tante dopo che sono morto come un coglione e quindi ho qui volendo posso gastare anche un po' di questa qua intanto c'è ancora una box con una marea di pepite e anche carote va bene massa la roba che c'è lì e la blade puzzle dovrebbe andare qui mancava la metto dai almeno ce l'abbiamo e ecco scoperto ragazzi dove erano le bardature d'oro due di ferro una di diamante ce l'avevo addirittura qua dentro qui sono veramente pieno di roba what the fuck c'è pure uno stack di ferro devo un attimo vedere in questo laboratorio è pieno di roba ragazzi questa è la shulker box che mi portava presso c'è veramente tanta roba anche tante pepite d'oro vabbè poi si vedrà insomma qua pure c'è tanta roba vabbè anche tante ossa c'è un attimo da riordinare i materiali in questo laboratorio c'è anche da finirlo da aggiustarlo vediamo se riesco a farlo off camera prima del giro del mondo perché comunque è importante vorrei avere almeno tutte le cose fatte ben finite e sistemate il laboratorio siccome è fatto preferirei averlo finito e sistemato così da farlo vedere tutto durante il tutorial durante il tour del mondo sto lavorando proprio sulle cose incomplete quindi anche la farm di legno anche se non la finisco in questo episodio la finirò off camera per il prossimo anche perché il prossimo come ho detto sarà di esplorazione allora detto questo anche questo sarà un episodio di esplorazione in realtà costruiamo ben poco dato che già ho fatto la carota off camera e dovremo andare a trovare i conigli i conigli che non so assuramente dove sono ovviamente ho due lazzi con me perché li cattureremo proprio così li porteremo là li rinchiuderemo e li accoppieremo quindi non so bene dove posso trovare dei conigli e quindi adesso bisognerà incamminarsi un po' in giro e andare a trovarli tra le varie farme che dobbiamo fare c'è anche quella di streghe che qui vicino c'è la casa delle streghe che avevo trovato è molto vicino alla farme di colori quindi è una cosa fattibile direi dove andare a trovare dei conigli non mi sono informato sul bio ma non mi va neanche di andare a vedere quindi andrò abbastanza random non credo siano troppo complessi da trovare spero e una volta presi li porteremo indietro li accoppieremo insomma la farme sarà già finita quindi penso di fare anche quella di legno in questo episodio lo so probabilmente vi starei dicendo ecco ma perché non la fai automatica non fai qualcosa di più figo ma alla fine ragazzi per quello che serve non vale la pena farla automatica cioè io non faccio le cose a prescindere io faccio le cose se servono quella di polli sarebbe design sarebbe molto simile a quella di polli però siccome già ho quella di polli per il cibo e quella di pelle per le pelle ho quella di mucca automatica non vedo perché dovrei fare una farm automatica per le zampe cioè voglio dire ok che sono degli ingredienti ma servono per una specifica pozione nemmeno troppo quindi non è che abbia bisogno di stacche di zampe assolutamente no quindi non farò assolutamente una farm automatica di conigli comunque sto andando nel bioma della palude che non credo che sia proprio l'ideale ah poi tra gli altri piani che ho in sospeso ragazzi so che c'è il fatto delle mura giganti intorno al regno eccetera che dobbiamo fare ancora le pixel art giganti mia di ferrix all'ingresso lo so perfettamente ho intanto lì la farm d'oro che si vede uno dei più grandi progetti che ho in sospeso perché purtroppo devo fare ancora molto spazio devo vedere bene i luoghi e soprattutto ho avuto una marea di imprevisti perché con tutte le cose che dovevo fare sono state sempre imprevisti Wither con gli agitale sono morto poi ho fatto la farm di skeleton Wither volevo farmare un po' di cose per attivare il beacon che mi sarebbe tornato molto utile per buttare giù le montagne che devo buttare giù per fare quelle pareti ma sono morto di nuovo ho perso tutto di nuovo e quindi alla fine sono arrivato più o meno al settantesimo episodio e ho deciso ok facciamo il tour del mondo e vaffanculo per il momento sospendiamo quel progetto e dopo il tour del mondo riprendiamo tutti i grandi progetti Wither e Litra e Muro e Pixel Art giganti che abbiamo in sospeso io vorrei trovarli nei pressi della base perché poi portarsi appresso da troppo lontano due stronzi con un laccio non è proprio il massimo quindi da sto lato niente si sta facendo notte vado a dormire e vado dall'altro lato del castello ma soprattutto al settantesimo episodio ancora dormo in questa baracca vabbè ho il castello e non ci dormo devo fare delle stanze dedicate a me al castello sicuramente infatti l'idea era fare la stanza quella degli ospiti la casa degli ospiti in realtà dentro al castello perché ricordo che nel castello c'è un altro piano doveva essere adibito a esperimenti redstone però potremmo anche decidere di intanto questa cosa che sia di diamante o che sia di ferro distrugge comunque qualsiasi cosa però potremmo anche decidere di realtà qua c'è un altro cavallo mi ero pure allontanato questo è quello che c'è stato a tempo non è che questo mi faceva schifa e dico la stanza re con gli esperimenti redstone potremmo anche fare boh da un'altra parte fare qualche altro sotterraneo non lo so il piano superiore farlo per gli ospiti oppure fare proprio una struttura a parte dimmi nei commenti se secondo voi va fatto nel castello meglio da un'altra parte ma c'è paluto ovunque qui nei dintorni quindi andiamo in quella direzione non lo so i conigli sinceramente ora vediamo se li trovo se no cerco il bioma ci sono un mucchio di pecore e maiali ma non vedo conigli qui ah ecco qua ragazzi vedete qua questa è la ferrovia che va che qua poi va sotto terra quella che va al primo villaggio e qui avevo iniziato l'abbasamento del muro avevo deciso di farlo largo così e di iniziarlo da qua avevo già spianato parecchio qua ragazzi per fare sto basamento di muro però poi non l'ho più continuato insomma era una bozza di dove dovesse arrivare in realtà molto lontano dal castello quanto cazzo mi sono allargato le manie di grandezza che ho sono incommensurabili proprio ok siamo tornati nei pressi del castello io direi di andare dietro verso il mob spawner di ragni e perché lì ci sono delle montagnette dietro forse in quel bioma là è più facile trovarli sapendo prendevo la ferrovia non ho mai enderpearl col meno nonostante io abbia la farm con chest doppie piene e siamo arrivati al ah vi ricordate qua questo pillarone questo è il pillarone dove io ero uscito quando ho trovato il mob spawner di ragni poi l'entrata del mob spawner l'abbiamo fatto da un'altra parte una volta l'abbiamo costruito però qua se non sbaglio c'era una box esatto uh vecchi ricordi ragazzi che è tutta sta roba un enderpearl ah queste erano quelle del mob spawner probabilmente avevo ricavato qui abbiamo della ferina d'ossa 39 lingotti di ferro l'ossa addirittura stacche di coso porvere la sparo frecce una zappa di ferro ah si cose che si ritrovano sparpagate nel mondo ok ecco questa è la montagna di cui parlavo poc'anzi ora bisogna solo scalarla oh eccoci qua siamo in cima alla montagna state qua ragazzi un bloc cosa sono isole sospese queste fighe cazzo questa è figa è un'isola volante questa in pratica sono cose rare queste dovremmo sfruttarle in qualche modo isole volanti potremmo date qualche idea nei commenti va chi è arrivato a sto punto del video schiesse nei commenti hashtag isola volante e poi l'idea cosa si potrebbe fare su delle isole volanti eh bella idea vai sotto quei commenti e vediamo pure chi vede i video fino chi vede tutti il video e chi invece fa il furbetto e schippa niente sempre le stesse cose il problema è che mi sono allontanato fin troppo quindi io direi adesso torno alla base e sapete dove voglio andare a vedere mi è venuto un lampo un ricordo di conigli vicino alla farm di ferro se non sbaglio io alla farm di ferro una volta ho visto un coniglio nero quindi è probabile che lì sopra spawnino e se stanno lì abbiamo svoltato la vita perché stanno proprio dietro la farm quindi torno alla base raga ok ragazzuoli siamo qui alla farm di ferro non vedo apparentemente conigli ma ero curioso di vedere oh vedete quanto cazzo rende alla fine è da un bel po' che non andavo a vedere però il ferro c'è alla fine abbiamo lavorato tantissimo qui vicino e ha reso allora quindi è una farm che rende sicuramente bene i villageri sono parecchio riprodotti evidentemente lì c'è la farm di squid con la zona d'fk quella è la casa di colori con jab ma mi ero un attimo fermato ragazzi ho cercato su internet in realtà non c'è un luogo specifico un certo bioma diciamo pianura barra alberi sicuramente non palude quindi qui not bad non è buono qua bisogna un attimo superare sta palude di merda però se non sbaglio lì a destra c'è poi un boschetto della pianura vediamo un po' ah là c'è pianura eccola qua la pianura buono 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 ok stavo per buttarmi in una caverna io la pianura alberi ok dai saltate fuori i conigli dai porca miseria però uh e questi guarda un po' ho delle ossa bene bene molto bene alla fine siamo andati per dei conigli e abbiamo ottenuto dei bei cagnolini dai eh uh quanto mangi murtacci vabbè questo però mi abudisce e andiamo su mi segue perfetto abbiamo un cagnolino ottimo quindi sotto coi gumi per il cagnolino raga abbiamo trovato il nostro cagnolino se tornerà a casa riusciremo a portarlo insomma minchia i cani raga qua è pieno di lupetti il problema è che non avevo tantissime ossa anzi che ce l'avevo che l'avevo trovata là al mob spune dei ragni qui intanto si sta facendo notte abbiamo sempre il nostro letto qua in questa zona è veramente strapieno di lupi ragazzi ne sto trovando un mare quindi so bene dove sono e quindi se mi serviranno cani in futuro tanti cani saprò dove andarli a cercare bene 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 e ecco qui i cavalli ma dei conigli non c'è l'ombra voi mi direte Alec ma adesso che hai cavalli perché non sei andato in esplorazione con i cavalli dato che non hai l'elitra bella domanda che non sono abituato ormai stavo a piedi sono un coglione effettivamente col cavallo avrei fatto molto prima guardate no fighissimi una famiglia di cavalli marroni tutti diversi oh mio dio e questo un coniglio di me due conigli fermi qui dove scappi vieni qua oh no vabbè rega 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 ma quanto saltano quanto saltano sti conigli oh vieni qui oh questo l'ho preso quindi adesso lo trascino giusto ehi ehi chicco non puoi scappare sei al guinzaglio vieni qua dov'è l'amichetto tuo vieni qua cane vieni pure tu qui c'era l'amichetto tuo no l'amichetto tuo non deve neanche provare a scappare eccolo lì l'amichetto tuo vieni qua l'amichetto tuo dove scappi perché scappi oh ma vieni qua oh ho presa tutte e due stronzi oh e mo venite qui mo la base sta in quella direzione probabilmente a 400 blocchi di distanza ma questi sono dettagli quindi dato che il video è già ben un'ora e cinque minuti che registro adesso andiamo alla base e vi taglio il pezzetto ok ragazzi abbiamo raggiunto di nuovo l'incrocio da cui seravamo un po' ok sono qui il problema sapete qual è che nel tragitto ho perso il cane il cane che mi doveva seguire a prescindere da questi due stronzi l'ho perso questi due stronzi invece mi hanno seguito la grande però vabbè poco male nel senso no aspe cosa diavolo è successo oh mio dio meno male che me ne so accorto in realtà ragazzi si staccano parecchie volte me ne sono staccati mille volte difatti ho tipo il terrore ogni tre secondi mi giro adesso il problema è che fino a mo sono andato abbastanza dritto eccetera qui però mo c'è una montagna e devi sempre controllarli non puoi mai fare lunghi tratti è tipo era un'ora e cinque minuti adesso sto a un'ora e trentasei minuti ci ho messo circa mezz'ora a fare quel pezzo perché sto camminando non sto correndo e ho fatto veramente un pezzo enorme cazzo ok sono riuscito ad aggirare la montagna siamo praticamente arrivati non morite scendete forza no ok non si è rotta viene all'indietro viene all'indietro perfetto adesso apriamo qui venite qui dentro sbrigatevi forza bravi 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 complimenti adesso qua si chiude vanno messi qua perfetto per il momento le catilla vanno più che bene adesso abbiamo due carote qua le avevo preparate due di numero e andiamo a farli fappare bravi no 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 vabbè ma sei stronzo allora dove ma perché io mi chiedo perché guarda tu si è volatilizzato velocissimamente il primo coniglio l'abbiamo perso niente vorrei dire off camera mi darò da fare nel riprodurli che te devo dire andiamo a mettere delle corde qui vabbè due ce li abbiamo quindi la speranza c'è dai l'abbiamo portati qui niente non credo che farò la farm di legno adesso ragazzi la farò off camera off camera cercherò di produrre quei maledetti conigli farò almeno 4 o 5 insomma rendere un numero abbastanza buono a quando arriveranno a 10 dopo i 10 poi comincerò a ucciderli lasciandone sempre 10 così da poterne produrre 5 a botta e poi ucciderne 5 così 5 dovrebbero dare comunque almeno 2 o 3 zampe e quando mi servono delle zampe per delle pozioni ce le ho easy quindi niente l'avventura si conclude qui spero l'episodio vi sia piaciuto sicuramente sarà un episodio molto povero di continuo rispetto agli altri ma in realtà poi nemmeno troppo perché sicuramente un quarto d'ora di video ci sarà venuta fuori è un video extra ricordo di lasciare mille like per avere 3 video a settimana del mondo di Alec lasciate un bel commento iscrivetevi al canale se non è fatto Alec è tutto ce n'è al prossimo episodio un saluto iscriviti al canale Grazie a tutti.